Avete fatto una partitona questa sera, vi siete spaccati, vi hai fatto veramente miracoli insieme a Volta che ci ha piantato quella serie di triple infinite che ha tenuto in piedi il parziale, non siete stati in grado di difendere la grande, potevamo prendere un po' più di vantaggio. Nel terzo quarto quando avevamo il vantaggio che l'abbiamo perso, ci hanno recuperato in passato, siamo stati un po' alleggerotti, però effettivamente loro sono una bella squadra, non è da dire che sono premi e adesso fare i punti con noi per caso, però noi ci abbiamo messo l'impegno, siamo riusciti a ribaltarla, a volte la fortuna premia anche gli audaci, quindi certe scelte. Beh, ma la siete cercata la fortuna nel senso che fino alla fine anche l'ultimo fallo, il 2 su 2 finale che è comunque l'ultima azione che ha deciso il tutto, l'avete stoppato alla grande, l'avete bloccato dall'arco e il tentativo di rifugio. Sì, la volevamo questa vittoria e quindi non potevamo lasciarla, non si poteva, non si poteva. Adesso non siete a pari punti, quindi con vantaggio vostro, quindi si conta di chiudere praticamente, stiamo chiudendo la stagione al primo posto. Si fa i conti di arrivare, di mantenere questa posizione, insomma va bene, va bene il primo posto, fa sempre bene, poi al di là del vantaggio campo, nelle serie di playoff che anche quello punta. Grazie. Grazie a voi, ciao.